Ciao ragazzi, sono Pizzepitun, con questo nuovo video ho detto di me, su Pizzepit 5. In quest'episodio ho fatto una missione da manuale, solo in Persia, e oggi andiamo a finire finalmente il sub di cui Wade ci ha parlato per il nostro polpo al porto, per la nostra final porto di qualsiasi cosa super militare che ci sia in quella barca. Ok, oppure non lo chiamavamo scelto barca, non vi ricordo, lo chiamavamo scelto a largo, ovvero che c'era quella super cosa militare incredibile nel suo pacco, se lo sbaglio si, non vi ricordo sinceramente, quale abbiamo scelto, c'era la barca o la super cosa militare, penso alla super cosa militare. Sono un sbaglio, ora non sono sicuro. Va beh, non ci importa, non ci importa, non ci importa, lo scopriremo. Potete andare a vedere l'episodio del sopravduo al porto, non potete vedere cosa abbiamo riuscito, che ricordo che è seriamente. Ecco, punto, stiamo arrivando da qui su, ci ho detto Wade che possiamo semplicemente sparare alla nostra final portine, ma da qualche parte ci sarà anche un passaggio, non lo so, non lo so, voglio vedere, qui l'ho riuscito a riuscito, cerchiamo magari di fare la sette, così non faccio venire da nessuno, perché sarebbe la cosa migliore da fare. Così nessuno ci vede, noi ci prendiamo in sub, siamo verso lì, ci contenti, questa è. Questa è la massa di arti, ora fuggiamo a destra. la nostra nuova domanda. Quella è la pronta, cioè... Come presenta la nostra nuova domanda, se sono arrivati, come prima del momento, sono arrivati anche un momento, un momento di una strada più reale più solita, quindi, arrivare anche dentro nesse dita, e, effettamente, non collegare il porto, pure lo sbaglio dai vostri. calma calma non voglio attirare l'attenzione non voglio rompere già le cose ok c'è un super furgoni tanti furgoni ecco il super ecco il super recupero il super genitore faremo la fune facciamo prima ma quella cosa vedete cos'è il hash hash e il pulsante quello di pulsante c'è però se non è meglio se speriamo la fune allora bisogna di vedere meglio speriamo che questo ultimo fio però eh ok ok sono fatta mi hanno visto ma c'è un cerchio per la silenziatura non lo so forse non mi hanno sentito proprio una volta che è una cosa molto finita ok allora ci stiamo arrivando ok su un coperto telefono ecco perthat tutti Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. No, non lo so. Non lo so. Non lo so. cerco di andare il più sopra possibile perché voi dovete vedere i fondali più fondosi della cultura fondosa quindi ok 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 Perfetto a fronte, posso fare un cino su per mettere su una ciglia, con il succo che non usano. Come ci dire là su? Ah, forse quella guiglia è la guiglia di Floyd. Perché Henry, questo è un punto giallo, vedi? Penso che sia lì. Ok Floyd, sto arrivando. Ok, un po' più di qui e qua. Eccomi Floyd, un progetto. Sono giunato, ah, si deve stare da giù, ah. Sono gente raffreddice, non ti ricordo. Ho già pensato. Eccomi, prendimi. Grande Floyd, guardatevi tutto qui. Perfetto. Molto veloce questa blu. E doveva stare al camion su per camion di mofo? Ah, eccolo là, eccolo per camion di mofo. Trovo che ti ha pensato proprio da tutto. C'è l'idea da scherzando. Una cosa d'umidità del camion di mofo. A livello del giro. Che te ti ha fatto? È job, let's go, let's go! Ok, ok. Lei ha fatto un bel lavoro. Non ha nulla di tutto. Mi darà, non c'è la mia idea. Hai scelto una città che è rimanabile sul mio? Ok, non so qual è stato secondo me da sì. ok è corretto un spiro che si dovrebbe dire che è un giugno di giugno è un giugno di giugno no 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 sono sicuramente non sei non uso questo tipo di pressione se vedi un giugno si vedi un giugno si vedi un giugno non lo so 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 questo è bello a casa di Debra ora Debra ok qui ok tieni una sicura da loro mi raccomando non lo so non lo so non lo so ecco un under travel ok abbiamo finito abbiamo finito abbiamo finito il suo schermo di visione ne ho completata abbiamo finito quanto devo allontanare ecco abbiamo finito ci abbiamo completato la metà di adoro perchè sono troppo forte ok nel prossimo episodio finalmente devo fare le lezioni alla casa del ranking e alla prossima e per tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao